Il progetto è fare una... abbiamo due ragazzi nella nostra insieme di amici che fanno designer e sono occupati di fare i curatori. Abbiamo fatto questo progetto che andrà da fine gennaio alla prima metà di febbraio nella sala della regione qui in piazza del Ferrari. Mi serve più che altro un po' per ricordare, un po' per ringraziare tutto il lavoro che è stato fatto a Genova perché c'era una marea di ragazzi che lavorava e una marea di ragazzi che facevano il lavoro di memoria storica, di informazione. E quindi riportare la città a questo lavoro. E un po' per trampolino, chiamiamolo di lancio, perché alla fine ci siamo trovati che da una pagina di Facebook ci sono state tante iniziative più piccole, forse meno pubblicizzate rispetto agli appelli per pulire per strada. Ci siamo occupati di traslochi per gente che non aveva più mobili, gente che voleva regalarli. Abbiamo fatto una serie di cose che poi sulla pagina sono andate di meno perché avevano meno bisogno di visibilità. E allora abbiamo pensato noi ragazzi che ci stanno dietro, l'Emanuela e noi dello staff, di diventare grandi, chiamiamolo. E stiamo ragionando, non è una cosa ovviamente sicura, ma è fare qualcosa di importante, di serio, di vedere dov'è che manca. Perché noi ci siamo trovati ad essere un di più, diciamo, a riempire quei buchi di informazione che mancavano. E allora stiamo ragionando su cos'è che manca in questa società e riempire, come abbiamo fatto esattamente, per non la faccia. diventare, diciamo, un'associazione perché quello si può fare, in cui tutti quanti vorranno partecipare e saranno solo che benvenuti. E da lì muoverci. Poi, andando nel particolare dei vari progetti che abbiamo in mente, ne abbiamo tanti, le costituiremo a breve. Un futuro, spero, molto prossimo. Un futuro, spero.